Puzzi, mentre do il benvenuto a un altro interlocutore che è Danilo Delellis, responsabile del lavoro della CIA, che è la Confederazione Italiana Agricoltori. Benvenuto a pomeriggio 24, perché con noi? Perché oggi è il click day, si è già intasato un po' tutto, come sta andando? Ci dica una battuta perché poi spieghiamo con un servizio cos'è il click day. Sta funzionando per i migranti che si iscrivono a lavorare? Sì, buon pomeriggio a tutti. Sì, questa mattina alle 9 c'è stato il click day per presentare le istanze relative al decreto flussi. Diciamo che abbiamo avuto più di qualche problema perché alle 9 purtroppo il portale del Ministero è andato per qualche minuto in tilt, quindi le domande che sono partite dopo le ore 9 con qualche difficoltà. aspettiamo un po' i numeri che ci darà il Ministero, ma molto probabilmente, da quelle che è una nostra sensazione, le domande presentate saranno circa 100-150 mila. A fronte, lo ricordo, delle 44 mila quote messe a disposizione, però divise tra il settore agricolo e il turistico albergue. Allora, veniamo poi allo specifico delle esigenze di lavoro in Italia. Danilo Delellis, ma prima vediamo il servizio di Anna Trebbi che ci spiega un po' di numeri e procedure. Sono 82.705 i lavoratori extracomunitari che potranno assicurarsi un ingresso legale e un lavoro in Italia con un click, come stabilito dal nuovo decreto flussi. Di questi, più della metà andrà a lavorare nei campi, stima Coldiretti, che ricorda come in Italia un prodotto agricolo su quattro venga raccolto da mani straniere grazie a 358 mila lavoratori provenienti da 164 Paesi. Rispetto all'anno scorso, il nuovo decreto flussi consente un maggior numero di ingressi. Nel 2022 sono stati meno di 70 mila, ma complessivamente ancora insufficiente, considerato che solo nelle campagne servono almeno 100 mila paia di mani in più. Rispetto al 2022 viene riconfermata la possibilità che almeno 22 mila richieste provengano da associazioni di categoria, che avranno anche il compito di supervisionare l'intero processo tra ingresso, visto e contratto di lavoro, oltre alla possibilità di richiedere il nulla ossa stagionale pluriennale per almeno 1.500 unità. Grazie alla forte semplificazione burocratica introdotta dal nuovo decreto flussi, inoltre c'è maggiore facilità di reperire in mano d'opera anche fra pensionati, disoccupati, percettori di naspi, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali e detenuti ammessi al lavoro esterno. Non avranno bisogno di fare clic e avranno le stesse tutele contrattuali, previdenziali e assistenziali previste per i contratti a termine. Danilo Delellis, responsabile del lavoro della CIA, gli agricoltori. Di quanti lavoratori stagionali ha bisogno l'Italia? Ma sicuramente come è stato detto nel servizio, la quota di 100.000 lavoratori l'anno potrebbe in qualche modo soddisfare le esigenze delle imprese. Ricordiamo nello scorso l'ultimo click day che c'è stato ad ottobre su 42.000 quote disponibili sempre per il lavoro stagionale furono presentate 98.000 domande, eravamo ad ottobre. Adesso come vi dicevo prima, noi ipotizziamo che vengono presentate 100-150.000 domande. È vero che il numero degli ingressi è aumentato a 82.000, però ribadisco che per il settore agricolo e turistico sono soltanto 44.000. Poi fortunatamente il 50% è riservato alle associazioni viatoriali come la CIA e quindi questo permetterà alle aziende di avere una maggiore possibilità e percentuale di riuscita della presentazione delle domande. L'altro giorno la Premier Meloni ha detto in una conferenza stampa che ci dobbiamo chiedere anche perché quando gli immigrati servono in Italia per fare i lavori che gli italiani non vogliono fare, perché gli italiani non li vogliono fare? In molti casi perché sono sottopagati. Nel campo dell'agricoltura è questo il motivo per cui gli italiani non fanno la raccolta dei pomodori? Non parlerei di lavori sottopagati perché comunque anche in agricoltura come negli altri settori abbiamo la contrattazione collettiva, quindi abbiamo un contratto nazionale e poi la specificità nel nostro settore è che abbiamo tanti contratti provinciali perché demandiamo poi al territorio stabilire qual è l'importo giusto per remunerare i lavoratori. Quindi il problema non è sicuramente il salario che rispetto ad altri settori potrebbe essere anche più basso, ma comunque è definito sempre da negoziazioni con i sindacati. Il problema è che è un lavoro che forse non rende e non dà ambizioni, però se pensiamo che circa un milione e centomila sono i lavoratori assunti regolarmente, il 30% sono stranieri e per stranieri intendo comunitari e anche extracomunitari. Quindi comunque la manodopera italiana è presente, però ultimamente si fa grandi difficoltà a reperirla proprio perché forse non è attrattivo come lavoro. E non solo in questo settore, naturalmente sappiamo che è un problema generale, in molti settori, molti mansioni insomma vengono richieste, la cura della persona, le badanti e i badanti e molti altri lavori. Questo ovviamente poi però, una battuta soltanto, c'è il settore che non possiamo non nominare enorme del caporalato, di quello che non rientra nei contratti, che non è controllato dalla CIA naturalmente, ma che voi combattete. Sì, sicuramente noi condanniamo le aziende che fanno ricorso a queste scorciatoie per abbassare e per diminuire il costo del lavoro. Noi condanniamo, abbiamo un codice etico, quindi chiunque utilizzi o faccia ricorso al caporalato o allo sfruttamento è estromesso dalla nostra associazione. Certo, purtroppo quando si parla di caporalato si fa sempre riferimento al settore agricolo, però anche questo danneggia un po' quello che è il nostro settore perché la legge 199 si estende su tutti i settori produttivi, dal lavoro domestico fino all'edilizia, al terziario e ai trasporti. Quindi ecco, è sicuramente una piaga che ci portiamo dietro da troppo tempo e la 199 sicuramente ci sta permettendo di fare pulizia e di eliminare quella concorrenza sleale che purtroppo le nostre aziende sono costrette a fronteggiare giornalmente. La ringrazio, la ringrazio per essere stato con noi Danilo Delellis. Grazie a voi.